Giovani scrittori che raccontano l'Italia come Giorgio Vasta, Beppe Fiore, Demetrio Paulin, ma anche autori cult come Antonio Moresco e Filippo Tuena. E ancora spazio alle case editrici toscane di qualità, presentazioni, letture, DJ set, meeting di riviste e due workshop di poesia e prosa. Tutto questo è Ultra, il festival letterario che si terrà a Firenze dal 23 al 26 settembre tra la Biblioteca dell'Oblate e il Teatro della Pergola. Quattro giorni proposti da un comitato direttivo composto da giovani scrittori trentenni, pensati come un'anticipazione di un evento su scala maggiore a Firenze a partire dal 2010, che mostri il meglio della letteratura italiana attuale. Oltre a un festival, o meglio una proposta di festival, che quest'anno si presenta in anteprima, che vuol creare una rete di incontri letterari che puntano molto anche sullo spettacolo, sul video performance, sul workshop, sul laboratorio, quindi su momenti non solo di lettura semplice del testo, una rete all'interno di Firenze in quest'anno tra Teatro della Pergola e Biblioteca dell'Oblate. Per il 2010 e per gli anni successivi speriamo di proporre un festival letterario con tutti i crismi, ma come vogliamo noi, ovvero un festival letterario che presenta non solo libri, ma presenta anche produzioni in loco, residenze artistiche e spettacoli legati a libri di autori che vengono invitati da ultra per produrre i loro spettacoli all'interno del festival. Quindi estendere la durata del festival a 15 giorni, coinvolgere a rete tutta la città, le librerie, i centri culturali e proporre qualcosa che abbia la dignità di un festival letterario nazionale duraturo. Da segnalare il reading di chiusura del festival sabato 26 con Antonio Moresco, che leggerà alcuni brani di Canti del Caos, il suo capolavoro pubblicato da poco in versione integrale da Mondadori, ma anche il 17 di venerdì sera che si terrà alla Pergola, l'incontro di mercoledì con Giorgio Vaste e Filippo Tuena e il raduno nazionale di riviste letterarie online e cartacee del sabato mattina.